a tutti ragazzi sono tornati anche qua l'episodio 3 parte 3 se non sbaglio la grassona stiamo indagando di nuovo sull'omicidio della sua sorella sappiamo che crane, quel vecchio bastardo ovviamente è coinvolto l'ultima volta abbiamo avuto dei sospetti anche su barba blu adesso vediamo come si evolve la cosa abbiamo poco tempo dobbiamo trovare degli indizi dicono di non svegliare, non trovo che dorme sì, sono io il toglialegno sì, certo sì, certo sì, certo no, problema il bar è chiuso e Lily non c'è quindi puoi tornare indietro anche no vediamo la foto chi c'è qua? uh mi ho capati eh, guarda chi c'è dietro guarda dudububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub Spero, spero che tu sia e non ti preoccupare. Spero che tu lo faccia. Senti, oh mio Dio quanta roba. Vediamo il bottle of wine. 1934. Bello. Però. Complimenti. Sono 80 anni, bravo. Complimenti. Dormi, dormi, bel bambino. Non c'è rimasto niente da rovinare per te. Vieni a dormire, Holly. Non ti preoccupare. Oh, bravissimo. Vediamo questo. Aspetta che ti frega solo qualche libricino. Esatto. Una spilla e un'unghia da trovo. L'assicurazione, il bollo, cos'è sta roba qua? No, sono gli appuntamenti. Ancora? Eh, capita. Ok, quindi lei sperava ci fosse. Non so cosa sta facendo Bigby. Se... Se lo preoccupa. Se lo anche gli dà una piazza. Non so. Non so. Non so perché ci ha arrivato. Se lo preoccupa. Se lo preoccupa. Se lo so. Se lo so. Se lo so. Sì, sì che se ne preoccupa. Ci tiene. Bigby ci tiene. Beh, tu lo conosci meglio di chiunque altro. Quindi mi toccherà crederti, giusto? Esatto. Bravissima. Va a dormire. Ecco. Vai a... Mamma che brutta visuale da qui. Mamma che brutta visuale. Si rischia. Si rischia. Drama, no? Quelle salsicce sembrano dei... Dei Viewster. Proprio... Davvero. Manca solo un po' di ketchup e maionese. Proprio ci sei. Ehi, un old dog che ti fai con quelle gambe di... Dai! Andiamo! Yeah! Ehi, ehi, è Biancaneve! Sta cercando Bigby? Ci sono! Rispondi! 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 No bro! Rispondi! Che cosa fa? Rispondi! Eh! Ah ok. Dimmi che hai trovato qualcosa. Ce l'ho. Ah! Ho l'indirizzo di Lily. Perfetto. Ok, numero 28. E' proprio sugli appartamenti. Ok. Let's go! Let's go! Non lo perderemo. Andiamo. Non ce lo faremo scappare. Ci siamo! Ci siamo! Ci siamo! Siamo sulle tracce di Crane. Quel vecchio bastardo che si è stuprato la... 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 La sorella della grassona... La trasformata in Snow White. Ok. Ok. Il tempo scorre. Counties Greenleaf Apartment. Ok. Ok. Sono le due quattordici del mattino. Anzi di notte. Sono un quarto d'ora rimasto. Quattordici minuti anche meno. Ok. Bisogna farlo eh. Eh. Direi di... Aspetta. Pronto. 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 Crane è qui. Ok. Non è il tempo per entrare. Esatto. Cosa potrebbe essere? Cosa potrebbe essere? Attenzione. Cosa? Ciao. E chi è sta qua? Ciao. BigBee si saluta. Mi hai svegliato. Stronzi. Eh. Sorry about that. Eh. Pardon me l'intrusione. Eh. Cosa potrebbe essere? Un munchkin? Cosa è il 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 munchkin? Chi sei? Chi sei? Chi sei? Siamo Biancaneve e... E il lupo cattivo. Sono il big bad wolf. Sono il big bad wolf. BigBee. Eh. Wow! Wow! Mi è piaciuto quando hai stupato il capozzetto rosso. Si. Che bella. Fai la stessa con me. Ah. Ma la sta presa per il culo. Si infatti. Ehm. Senti. Chiamami BigBee. Esatto. Ah lei è neve. Biancaneve. Oh. Oh no no. Ehm. 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 Snow, puoi parlare con lei? Snow, puoi fare qualcosa qui? Ehm. Non sopravvano con i bambini. Non sopravvano con i bambini. Diciamola così. Esatto. 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 Tu stai domani. All day. All day. All night. All day. All night. Ok. Ok, no. Confido che tuo amico non rompi ha niente di questo. Versi a tutto. Ok, cerca qualcosa di... Ma io non ho capito. Alla sospetta. Allora. Ehi. All�� stanzino. Eh. Ahha. per il suo mamma ma c'è un macellaio non si è un macellaio ma c'è un macellaio sono i... sono i pinco pacco pacco ok qui c'è qualcosa che non va non avresti dovuto dire cosa allora in qualche modo quindi sono... cosa fa? no non fruttosto a te no aspetta uuuuuuuuuuuu era nella... nella cianfrusoglie di Lily si è trasformata no 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 che brutti i denti che c'hai e nessuno mi ha detto di che ho spostato no no non lo capisci Ah, dice che se sua madre scopre che la sua entrare la gente e tocca le sue cose. Spero che la sua madre si incazza se si vede gente che tocca le sue cose. Cosa succede? Aprilo. Che faccio da... Attenzione. Oh mio Dio! Guarda che si trasforma! E lei, beh! E lei, la mascherata da bambina! No more bullshit! Ti abbiamo trovato, strega. Ok. Mamma mia! È finita! E ora mi dici quello che voglio sapere! Ok! Tell me where Crane is! No more bullshit! Non voglio più stronzate! Ah, è divertente eh! Si! Ah, bene! Ci vuole questo tipo di linguaggio con le vecchie signore. Ehi, come ti permetti? Dovresti temermi! Tu dovresti essere molto più freddo di me. Esatto. Qualcosa freddo che tu pensi di tornare a cuocerci. Non hai idea cosa sta succedendo. No! Spero che me lo dica tu! Oh! Continua a vendere trucchi illegali. È verissimo! È assolutamente illegale. No, non ne frega niente. C'è ricordato per la sua vita. E questo mi fa sicuro che non ci succederà ancora. No! No! Non ci succederemo l'albero. Maia! Come potete venire qui e farmi prendere la cosa che... L'albero è antico. È parte della famiglia. È l'unica cosa che costituiscono pagare questo. È l'unica cosa che costituiscono pagare questo. Questo appartamento. Non li vengono, dove pensi che potessi andare? Dividi me! Ti fai saldi con gli altri. Che schifoso. Esatto. Due sono morti per colpa tua. Distruggilo. Tu pensi che mi piace essere l'albero in queste storie? Gli uomini sono eroi. Gli uomini sono eroi. Gli uomini sono eroi. Gli uomini sono eroi. Non lo so un puttano. Senti! Il tre ha di andare! Sì! Il tre ha di andare! Ok! Il tre ha di andare! No! Guarda! Ti dico! Il tre ha di andare! Il tre ha di andare! Il tre ha di andare! Il puttano e pie non era il bar di prima! Che schifoso! Che schifoso! Maia... Adesso lo dici! Che ladra! Vedi l'albero minacciato! Ti sbosco casa, schifoso! Sarebbe da sboscargli casa! Se te la brucio! Sarà meglio che quello che hai detto è la verità Lo farei volentieri Ok Eh You better not be lying Perché se mi hai detto una stronzata Tornerò qui Non ti brucerò solo l'albero Ti brucio te proprio Strega Arrogo Bene Andiamo Andrà a vedere se è ancora lì Crane Hey Hey Non pensare che sia ancora finita Non è ancora finita I won't Sarebbe da scortare via quella lì Sì bisogna portarsela dietro secondo me Era da scortare quella lì se ne va E quella scappa Magari si traveste con No però c'è da dire che lì c'è l'albero Quindi non so se scappi davvero C'è comunque l'albero lì Ok Pudding and pie Oh no non è il bar Vai Madonna il lag Madonna mamma mamma Lag a caso Ma dove? Ah grazie È vivo Mamma mia Che paura Ehi Spaccalo Entra Non c'è tempo da perdere Non c'è tempo da perdere Forza Ah lui È il DJ Ah il Mr DJ Si fa le ballerine Si mi ricordo che ti ho spaccato il bar Però ascolta Ah Ah Adonno Where's Crain? L'avevi dato un bel pugno in bocca Yeah Che c'è questo nerd Ha con un posto come questo? Un nerd Che Che Ciao Idiota Focchino idiota Ma la potevo picchiare Ah no Vediamo We have a problem We have a problem Cosa? Cosa? Cosa no? Mmm Sì Non ho fatto niente Ah no Sì sì Certo E lui c'ha l'anello Slap him Slap him Vabbè Slap him Wait wait Dammi una possibilità Ti prego Scusate L'ho sicuro Tutto si risolverà Certamente Fee Sei uno schifoso Bastardo Ma che Che cazzo sto facendo Cosa fa? Cos'è l'anello della verità? Ancora Le mie labbra sono sigillate L'ha già detto anche con noi L'ultima volta Quella lì Cosa? Quanti anni? Quanti anni? Quanti anni ha avanti questa cosa? Troppi 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 Scusate 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 Ancora Lo so Cosa? Porco Porco Maiale Però attenziona Però può darsi in effetti che Sì è vero Come lo sai però Che ci pensi? La foto vedevi lui che Vabbè Dove non batte il sole Però Non vedi lui che la uccide E mi sento E mi sembra Uno un po' arachidico Un po' schifoso Per dire Progettare un piano del genere Magari ucciderli tutte Per me Panko 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 Barba Blu Però sa più di quello che dice Sicuramente In effetti Se fosse lui il killer Non saremmo al terzo episodio Saremmo già al quinto Saremmo già al quinto Non è lui il killer No non è lui il killer Altrimenti lo avremmo trovato Molto più avanti Ok Se non è stato lui Però chi è stato Ad uccidere Tutte quelle donne Sì Sì Questo è più grande Che Crane Più grande di lui Esatto Poco un altro Che è coinvolto Per me è Barba Blu Tu hai fregato Le soldi a tutti Lui non è Sente da colpe Però probabilmente Non è l'assassino A sto punto Bene Bene Allora Adesso però Ci devi dire Quello Sì E là Get up Tu sei lucky Sì Sei fortunato che è qua Sì Esatto Ti ha salvato il culo Se fosse risposto da me E la tua head Sua head Sua head Sua head Sua Washington E' un grande Ok Scheriffo E' abbastanza Greenleaf Ok Andata Behavend Eiquite Agence Ma senza Constrainte Tu devi rispettare Questo office Bigby E tu devi rispettare Mi come suo leader Sto citando ora Ho capito che sei il leader Ma non stransi Ti capisco Per farlo Per rinforzo Per rinforzo Sembra che non facessi sacrivi Ho fatto Faccio Sacrivi Sì E tu stai in questa chair Un minuto Prepar papa Tanti che ti sbagli Detti Non additi Sì Sì No no dai no no dai no Cosa no qui si stava Va bene va già bene così Yeah Turn around Go away Come on Come on Però c'è quella lì che sa chi l'ha uccisa Hai sentito prima cosa diceva vero? Lei dice sempre le mie labbra sono sigillate effettivamente Io me le sospetti anche su questa però Cioè per me o è coinvolta nel senso che non la fa parlare Qualcuno è coinvolta di me Vabbè interessante Adesso bisogna capire che succederà Crane non è l'assassino Non è l'assassino Crane Bisogna vedere chi è io ho dei sospetti sul valvo blu Quella prostituta lì non lo so se è qualcosa che non mi torna Direi però di chiudere qua questo terzo episodio di The Womongers Ciao 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 Ciao